Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione di Tibusiti in primo piano, ancora la politica con le elezioni, facciamo il punto sui risultati delle amministrative nei comuni della fascia costiera vesuviana, riconfermati in particolare a Dercolano e a San Giorgio Acremano, i sindaci uscenti Ciro Buonaiuto e Giorgio Zinno. Abbiamo raccolto questa mattina i primi commenti e le prime reazioni nella vicina Ercolano sul risultato raggiunto da Ciro Buonaiuto. Intanto si va delineando anche la composizione del futuro Consiglio regionale. Spazio anche alla cronaca con l'operazione della Guardia di Finanza che ha sequestrato 80 piante di marijuana a Napoli. Nei guai è finito un 27enne. Facciamo anche il punto sull'emergenza sanitaria in Campania. Secondo l'ultimo bollettino del COC, in particolare a Torre del Greco, si parla di tre nuovi casi e quattro guarigioni. In totale restano 43 persone in isolamento domiciliare e uno ospedalizzato. Non sottovalutiamo la situazione, aveva detto De Luca, a poche ore dalla rielezione. Vedo distrazione e rilassamento. Serve di nuovo rigore e controllo per i comportamenti non responsabili. La Campania resta una regione molto esposta. Questo ed altro. Vediamo i servizi. Conclusse anche le elezioni amministrative nei comuni campani. Sono stati 85 comuni della regione, chiamati al voto domenica 20 e lunedì 21 settembre per l'elezione del sindaco e rinnovo del Consiglio Comunale. Dopo i lunghi spogli, il risultato è il seguente. 72 sono stati sindaci eletti al primo turno, mentre i restanti 13 andranno al ballottaggio, previsto i giorni 4 e 5 ottobre. Grande successo ad Ercolano per Ciro Bonaiuto. Il sindaco uscente ha scalzato facilmente la concorrenza con l'80% delle preferenze. È difficile esprimere l'emozione ed anche la responsabilità che sento a sapere della fiducia che tante persone hanno riposto in me. Il mio primo impulso è stato quello di ringraziare la città. Da domani si ritorna in prima linea con tanto entusiasmo e con la consapevolezza di dover ripagare la fiducia che mi è stata data. Le parole del sindaco. Si posiziona a seconda Colomba Formisano con il 15,48%. Testa a testa invece per i due candidati sindaci outsider Luigi Parentato con Centro Democratico al 2,42% e Pierluigi Sorrentino di Ercolano e La Stella al 2,23%. Vittoria Bissa anche per il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, che con il 65,80% rinnova il suo impegno verso la città per altri 5 anni. Grande commozione sui social da parte del sindaco uscente che ha ringraziato la famiglia e tutti coloro che hanno espresso fiducia nei suoi confronti. Raggiunge il 21,81% il candidato Giovanni Marino. Terzo piazzamento per Patrizia Nola del Movimento 5 Stelle che si attesta al 7,36% e staccati Salvatore Caldieri di Fratelli d'Italia con il 2,68% e Luigi Gallo con il 2,35% per la lista civica Italia in Comune. Grande festa a Pompei per l'elezione del nuovo sindaco Carmine Lo Sapio, che sul filo del rasoio con il 50,2% delle preferenze è riuscito a vincere sulla concorrenza. Sui social scrive, soffia un vento nuovo su Pompei ed è il vento di cambiamento. Da oggi inizia un nuovo corso per la città. Grazie a tutti i cittadini, ora mettiamoci al lavoro. Tra gli altri comuni, lungo la fascia costiera, riconfermato a Massa Lubrenze il sindaco uscente Lorenzo Balduccelli e Domenico Ambrosino nel comune di Procida. Passa al secondo turno la sfida a Sorrento. Nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, cioè il 50% più 1, ragion per cui ci sarà il ballottaggio tra Massimo Coppola e Mario Gargiulo. Un successo netto per Ciro Buonaiuto, che si riconferma nuovamente primo cittadino d'Ercolano. Una vittoria annunciata per il sindaco uscente, che ha riscosso quasi l'80% dei consensi nella tornata elettorale appena conclusasi. Un risultato che gli consente di rinnovare il proprio impegno per ulteriori cinque anni. Questa mattina i cittadini hanno espresso i primi commenti a caldo ai nostri microfoni, per la maggior parte a favore della riconferma di Buonaiuto. Restano comunque, secondo l'opinione degli ercolanesi, molteplici aspetti su cui lavorare, dalla problematica relativa ai rifiuti all'economia locale. Punti su cui la cittadinanza chiede maggiore attenzione, affidando nelle mani dell'amministrazione le questioni denunciate. Siamo qui a Ercolano per commentare le amministrative, il risultato che ha premiato nuovamente Ciro Buonaiuto. Un commento? La gente si ha votato Buonaiuto perché ha visto che si è mosso, ha fatto qualcosa per la città. Siamo qui a Ercolano per commentare le elezioni amministrative conclusose ieri con la riconferma di Ciro Buonaiuto. Un commento? A me mi fa piacere perché Ciro è una persona seria. Cosa si aspetta adesso dal Buonaiuto Bis? Quello che ci ha promesso, poi non lo so, che gli altri non hanno fatto mai niente, speriamo che lui fa qualcosa. Cosa si aspetta adesso dal Buonaiuto Bis? La prima cosa è la trasparenza. Il paese era sporco e ancora sporco. Non c'è una disciplina ancora dei rifiuti, la differenziata, a seconda delle zone, ognuno ci versa come arrivare e piace. È il mio sindaco perché io l'ho votato e ne sono convinto abbastanza di quello che ha fatto. Che poi non ci accontentiamo mai. L'economia del colano è questa. Non è che ci sono chissà quanti soldi che pretendono questo, questo e quell'altro. Però ti dirò, per le persone che l'hanno votato, l'80% vuol dire che ha fatto le cose buone. Cosa si aspetta adesso dal Buonaiuto Bis? Di continuare quello che lui ha promesso, che faceva e che stava facendo. Siamo soddisfatti di Buonaiuto. Mi fa piacere che è salito a Buonaiuto perché ha trattato bene il nostro paese. Insomma, sono contento di questa cosa. Siamo qui ad Ercolano per commentare il risultato delle elezioni che ha visto il trionfo di Buonaiuto. Un commento? Per me tutta la popolazione di Ercolano non capisce niente. Perché sono 60 anni che a Ercolano non si conclude mai niente. Non c'è un parcheggio per la gente di Ercolano. Ha fatto tutte le strisce blè. Non c'è 10 metri di spiaggia per andare a mare. Un corso Ercolano l'ha rovinato. Non si capisce niente che corso è. È un corso principale che è stato da allora, da quando ero ragazzino, si andava in due versi, ora si va in un verso solo e sono chiusi tutti i negozi. Ci ha fatto piacere che è salito un'altra volta e speriamo che fai le cose un pochettino in più dell'anno scorso. Questo è tutto. Le promesse si mantengono. Non è che si dimenticano. In attesa dell'ufficialità prende forma il Consiglio regionale campano, con il rialetto governatore De Luca che guadagna due seggi in più rispetto alla precedente amministrazione. Sono 32 in totale i consiglieri della maggioranza, mentre il centrodestra all'opposizione ne perde due, passando da 12 a 10. E il Movimento 5 Stelle, che nonostante il calo dell'8%, resta a quota 7 seggi. Cambia lo scenario in casa PD. Saranno 8 e non più 15 i consiglieri presenti all'interno della maggioranza di questa nuova legislatura. Tra le fila del Partito Democratico spiccano i nomi di Mister 40.000 Preferenze e Mario Casillo, seguito dalla Torrese Loredana Raia, Bruna Fiola, Massimilano Manfredi e un eletto per ognuna delle altre province. Sempre secondo le proiezioni e restandone la maggioranza, la lista De Luca Presidente passa da 4 a 6 consiglieri, mentre Campania Libera scende da 3 a 2. Buon esordio per Italia Viva, che si aggiudica a quattro seggi. Due consiglieri per parte per le liste Noi Campani, Centro Democratico, per i Liberal Democratici e per Fare Democratico, che fa capo all'ex Presidente del Consiglio, Ciria Codemita. Un seggio infine per Europa Verde, Davvero Verdi e per il Partito Socialista Italiano. All'opposizione, certi della rielezione, Valeria Ciarambino e gli uscenti Saiello, Muscarà e Cirillo. Nel centro-destra, guidato da Stefano Caldoro, tre seggi rispettivamente per Lega e Forza Italia. Bene anche Fratelli d'Italia, con i due seggi guadagnati dai consiglieri Marco Nonno e Michele Schiano. La Guardia di Finanza di Napoli ha tratto in arresto un 27enne di Marano di Napoli e sequestrato all'interno del Parco Metropolitano dei Colli e dei Camaldoli. 80 piante di cannabis indica dell'altezza media di oltre 3 metri, per un peso complessivo di circa 400 kg. L'operazione è stata condotta dalla compagnia di Giuliano in Campania ed ha interessato una zona interdetta al pubblico. Il parco era di difficile accesso, ma mediante un veicolo aereo della Guardia di Finanza è stata scoperta la folta vegetazione. Il giovane arrestato nell'allestire la piantagione di cannibal nascosta dai rovi, aveva persino montato una tenta da campo per trascorrere la notte nelle vicinanze e per raccogliere la marijuana entro le prime ore del mattino. Sequestrati anche gli attrezzi utilizzati per la potatura e l'irrigazione mentre le piante sono state successivamente estirpate e incenerite sul posto. Un altro importante risultato nella lotta alla droga che rientra nel piano di prevenzione e repressione, del traffico di stupefacenti, del comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell'ambito del quale proprio i reparti del gruppo di Giuliano in Campania si sono particolarmente distinti, sequestrando solo negli ultimi due mesi ben sei piantagioni di marijuana. Siamo di fronte ad una sottovalutazione drammatica della situazione dell'Italia. Vedo una distrazione generale, vedo un rilassamento generale. Vorrei dire in maniera forte e chiara che l'ondata di ripresa dell'epidemia è già presente in Italia, forse non lo abbiamo capito, e che è già diventata necessaria una linea di nuovo rigore, di nuovo controllo anche su comportamenti non responsabili. Non c'è un minuto da perdere. Queste le parole del rieletto governatore della campagna, Vincenzo De Luca, a poche ore dalla rielezione, riguardo la nuova ondata di contagi da Covid che sta colpendo l'Italia intera. Una sottovalutazione drammatica della situazione e un generale rilassamento sono i nemici in questa lotta al virus, con paesi di nuovo fortemente colpiti a fare i conti con il gran numero di contagiati che si registra ogni giorno. Parla di una nuova ondata, già presente da qualche settimana, il governatore De Luca, che sottolinea la necessità di adottare una nuova linea di controllo sui comportamenti non responsabili. Sempre secondo il Presidente, la decisione di una apertura totale ha esposto ed espone tutt'oggi la campagna, che per via di un'elevatissima densità abitativa registra un aumento dei contagi costante. Mi auguro che ad ora ci fermiamo, riflettiamo e prendiamo decisioni conseguenti, superando il clima di rilassamento, purtroppo irresponsabilmente diffusosi nel nostro Paese. È il momento di riflettere e di prendere decisioni. Questo è l'appello del governatore Campano, che invita tutti, dai cittadini alle istituzioni, ad agire responsabilmente per ragionare il problema. Intanto, il bollettino ordinario dell'Unità di Crisi della Regione Campania mostra un ulteriore aumento dei contagi nella giornata di martedì 22. Sono infatti 156 i contagi registrati in tutta la campagna, a fronte di 4.310 test effettuati. A Torre del Greco, effettuati 40 tamponi, da cui sono emersi 3 nuovi contagiati da Covid-19. Arrivano a 44 gli attuali contagiati nella città del Vesuviano, di cui 43 in isolamento domicilare e un ospedalizzato. Da segnalare le 4 regioni certificate a Torre del Greco e le 98 in totale nella regione Campania. Grazie a tutti.